È normale, è normale che un cittadino abbia due o tre processi, ma venti no, venti processi è persecuzione politica. Io penso che non è normale, casomai è da pregiudicati, ma non da persone normali. Io non ho mai avuto un processo, la maggior parte di noi non ha mai avuto un processo, mio padre non ha mai avuto un processo e in vita sua si vantava di non aver mai firmato neanche una cambiale. Provo stupore, è il penultimo sentimento perché sono uomo, ne ho pochi, di fronte a un presidente del Consiglio che condivide qualcosa, non so che cos'è, un'amica, una fidanzata, una relazione, di sicuro una frequentazione con una signora che è fidanzata con un narcotrafficante da 12 kg di cocaina e lo scarrozza in giro il fidanzato con l'auto di un esponente pubblico della regione Lombardia. Poi la fidanzata del narcotrafficante chiamò la fidanzata con un narcotrafficante che è Chiama la prefettura di Milano a nome del Presidente del Consiglio per chiedere favori, non ne ottiene per fortuna, ma le dicono non perda tempo a cercare parcheggio, parcheggi qui in prefettura. Allora io da maschio provo anche indignazione e rabbia, sono capace di provare anche due sentimenti insieme e penso che non è vero quello che qualcuno dicono, non è vero, non siamo tutti uguali, non è tutto lo stesso malaffare, non è vero che tutti fanno così. Io in centro a Milano sono anni che non trovo un cazzo di parcheggio. Volevo riformulare la proposta, se Michi Vendola va al governo aboliamo Miss Italia.